ciao ragazzi marco in volo ciao ciao ora facciamo vuota ci stanno queste barbule e si senti questo suono si questo suono praticamente ci sta indicando che stiamo salendo più suona forte e più si sale ok ciao 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 l'anno scorso che sono andato a lanciare a 4 mila metri diciamo che ci ho sempre avuto la fantasia del lancio lancio una cosa che è che butti a vaita e vabbè ci arrivi tutto vicino questa ruota giustando il diventi giustare tutta quella catena che vediamo ci vedrete tutte le domeniche praticamente? eh, per un fiore si ma certo, ti ho vinto si ma c'è stato negato un po' di tempo eh si si non si è volato proprio bene non si è stato un periodaccio proprio no nulla l'alto A presto vediamo se tira un po' più su davanti sui gumoli di scendere, giro di giro per l'istrumento il volo avevi? il volo puzzle o il volo est? non mi ricordo si perchè mi hanno fatto per regalo perciò non so se il puzzle e l'ex qual'è la differenza? la differenza sta nel senso non so se puoi parlare con loro gli ho chiedi si ma dopo vediamo poi Emanuele Emanuele pariamo parte negli scondi Emanuele Emanuele parte negli scondi mi ricorda va bene è il suo compleanno è stato il 18 ne ho fatti 41 dai dietro vabbè ma non mi sento non è che e ti lo dici sono 45 ahahah ahahah no almeno qua non ci stanno ne di stanzare no? no ma che stammattica ma di stanzare? mi manca le 11 che stanno qua no no le 11 si la 8 è quanto male le 11 no no vedrai che le 11 e saliamo e saliamo a 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